Un altro colpo alla mafia. I carabinieri del Rosso hanno arrestato Antonino Lupino e Vincenzo Lupino, figli dell'imprenditore di Campobello di Mazzara Giovanni Lupino, l'uomo che faceva d'autista al capo mafia e che con lui è finito in manette il 16 gennaio di un anno fa. I due sono accusati di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati. Secondo l'accusa avrebbero aiutato Messina Denaro a muoversi e spostarsi nel territorio in cui il boss negli ultimi periodi ha vissuto. Dal 2018 al 2022 i due fratelli hanno abitato a pochi metri dall'ultimo covo del padrino a Campobello di Mazzara. Ad Antonino Lupino era stato comunicato il numero di uno dei cellulari usati dal boss mentre Vincenzo Lupino sarebbe andato alla clinica La Maddalena dove ricercato era in cura per un cancro quando questi venne operato per provvedere ai suoi bisogni. I tre Lupino poi avrebbero seguito i lavori di ristrutturazione del covo della titante e il trasloco dei mobili del boss all'ultimo nascondiglio.